Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video come avete letto dal titolo continuo della prima parte che avete visto la scorsa volta e che vi è piaciuto molto del Foss Fishing con la nuova attrezzatura di Bertini mi raccomando ragazzi, anche questo è un gran video ho dovuto dividerlo in due perché c'era troppo materiale c'erano troppi pesci mi aspetto tanti, mi piace pure questo video lasciatemi anche qualche commento iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti condiviate il video e via con la sigla Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Carpa al Lamo, sta andando sotto il ponte Allora vediamo il giardino Ho trovato la mia nuova suoneria Sto alzando su tanto di quella terra Guardate qua E' una bella carpa comunque Qui sta Prima su poi giù E deciditi dove vuoi andare Guardate la piegona che gli fa fare Bene Eh tira Tira Tirano queste carpe Con questa corrente Guardate qua che è la 6 corrente Mettono alla prova Questa bella cannina Questa è un po' Questa è la sua Inoltre Stanno tanto imitantate Sto cercando di tagliare anche il filo sulle rocce Guardate qua ce ne sono altri due Sempre più o meno su quella taglia là Ok ok Inguadino Eccola qua Guardate che bella Anche questa di una bella taglia Ok Perfetto Eccola qua Corpettino No Presa Come canta il filo Carpettina sul giallo Era la che mangiava La prima volta l'avevo sbagliata Volevo farla mangiare ma ho aspettato troppo E adesso è arrivata E adesso è arrivata Presa il filo Presa sul mio gormettino giallo Molto immobile In questo bello giallo fluo che può ricordare un po' un chicco di mais Eccolo qua Ok Subito Andiamo a rilasciarla Che uscita Che uscita Eccolo qua Che uscita Che uscita Che uscita Che uscita presa presa bella mangiata finalmente è arrivata gestisco tutto di canna guadino bella carpa adesso inizio a scappare una bella carpa 3-4 kg questa treccia diretta perché sono qua in mezzo alle cannelle inizierei subito la rottura canna la mettiamo come sempre bene alla prova mannaggia un battimento molto veloce conoscendo bene i limiti della canna vai un guadino guardate che bella carpa qua guardate che bella fenomenale questa canna ok liberiamola ok liberiamola sono stato velocissimo guardate è già pronto a partire grazie a tutti